Mister, partiamo dalla partita, partiamo da un Verona sceso in campo con l'atteggiamento giusto fino al 49esimo del primo tempo, poi l'autorete ha cambiato psicologicamente, definiamolo così la partita. Sì, c'era tempo per recuperare, infatti anche il secondo tempo, pur avendo un approccio un po' più basso rispetto a come posizione tattica, però poi la palla più importante l'abbiamo da noi sull'1-1. E faccio i complimenti alla spalla e quando vince, chi vince è bravo. Può essere forse l'autorete l'immagine un po' della stagione del Verona, Mister? Ma io adesso non focalizzerei troppo sull'episodio, un incidente di percorso, fa parte del gioco.